La verità e le menzogne, questo è il titolo della conferenza stampa indetta dal sindaco di Cosenza Mario Chiuto. Il primo cittadino supportato dalla sua squadra di governo e dalla relazione dell'assessore al bilancio Luciano Vigna ha voluto fare chiarezza in merito alla situazione debitoria del comune e sulla sua posizione personale a seguito degli attacchi che ancora una volta lo hanno visto bersaglio prescelto di una parte della minoranza. Indando il comune di Cosenza lo abbiamo trovato con un dissesto dichiarato dalla Corte dei Conti nel 2011 e abbiamo operato facendoci approvare un piano di risanamento e riducendo di moltissime le spese quindi questi signori dovrebbero vergognarsi perché hanno indebitato il comune per 180 milioni di euro che in questi anni e grazie a questa attività abbiamo circa 600 dipendenti in meno abbiamo spese il personale per 12-13 milioni in meno di euro all'anno che non gravano sul bilancio e abbiamo utilizzato molte risorse strutturali grazie a questa attività il comune oggi è sulla via del risanamento. Per quanto riguarda la mia questione personale vorrei dire che ogni volta a 24 ore dal voto viene strumentalizzata in modo così vergognoso, cioè è una cosa che non c'entra assolutamente nulla con il comune qui stiamo parlando dell'ignoramento di un quinto dell'internità del sindaco come è avvenuto in tante altre parti d'Italia, anche a Napoli con De Magistris ci sono qui consiglieri comunali che hanno il quinto che è accantonato nel Consiglio regionale quindi si aprirebbe una questione nazionale più che altro su attività mie, personali, io voglio precisare che sono stato uno dei primi contribuenti in Calabria per decine di anni, quindi ho lavorato, al contrario di questi fannulloni che non hanno mai fatto nulla e quindi ho delle pendenze che sono relative fra l'altro a contenziosi che ci sono anche importanti su crediti che devo ancora ricevere ma che non hanno niente a che vedere col comune, il comune non ha pagato mai nulla mai pagherà nulla e se dovesse esserci qualche problema ne risponderò personalmente ma riguarda la mia internità, il quinto o tutta la mia internità che non ha assolutamente nessuna relazione con quello che questi signori ogni volta che c'erano le elezioni strumentalmente cacciano fuori voglio precisare che poi questi soggetti, li conosciamo tutti, non sono neanche tutta la minoranza tant'è che molti mi hanno fatto dei messaggi dissociandosi dicendo che loro non partecipano ad attività di questo tipo che sono denigratorie e di tipo personale sono sempre i soliti noti, c'è addirittura uno che è rinviato a giudizio per appropriazione in debita su somme, quelle sì che sono dei cittadini perché sono state già in qualche modo accertate e che è stato tolto anche dall'assessore regionale